Una coalizione forte e coesa per poter governare la regione. Il centrosinistra questa mattina a Pescara si è riunito per trovare una sintesi sugli obiettivi da raggiungere fino alle prossime elezioni regionali e alla luce anche del buon risultato raggiunto agli ultimi ballottaggi. Resta da capire come si realizzerà un eventuale accordo con il Movimento 5 Stelle su base abruzzese. A oggi si riunisce la coalizione di centrosinistra e cioè i partiti che si riconoscono nel centrosinistra i consiglieri regionali e parlamentari. È un primo incontro operativo che naturalmente attende con molto rispetto la definitiva organizzazione del Movimento 5 Stelle affinché ci possa essere poi appunto un dialogo tra il centrosinistra tutto e il Movimento 5 Stelle stesso. Chiaro che il voto delle elezioni amministrative di quest'anno ma anche dell'anno scorso è una chiara indicazione da parte degli abruzzesi una richiesta di costruire una piattaforma alternativa al governo Marsilio che è giudicato inefficace e lontano e noi dobbiamo farci carico di questa responsabilità, lo faremo tutti insieme. Quindi inizia un percorso di condivisione perché un'alleanza ci può essere tra noi e naturalmente tra il centrosinistra e il Movimento 5 Stelle se ci sono principi e programmi condivisi. Lo dicono tutti, lo diciamo anche noi, vogliamo capire se ci sono. Io naturalmente sono molto molto fiducioso che ci possano essere e poi quando avremo definito i nostri punti di condivisione dobbiamo interloquire necessariamente con i cittadini, con le forze sociali, con le forze economiche, con le associazioni, con i territori, con gli amministratori. Noi siamo convinti di poter scrivere le pagine che servono a questa nostra regione soprattutto in questa fase delicata perché tutti insieme siamo all'opposizione del governo Marsilio e tutti insieme siamo al sostegno del governo Draghi a differenza dei nostri avversari che invece hanno posizioni confuse ad esempio il governo nazionale sono sia in maggioranza sia in opposizione. C'è bisogno di connettere i territori con il PNRR, con i fondi della ricostruzione e noi ci faremo parte dirigente già da subito, non aspettiamo le elezioni regionali. Già da adesso ci sentiamo responsabili di non far perdere nessun treno alla nostra regione.